passando invece alla tematica dell'assegno unico allora l'assegno unico come magari avete sentito avete letto sui giornali se ne è parlato molto entrerà in vigore dal primo marzo quindi è già possibile fare domanda adesso anzi consigliabile fare domanda adesso perché l'IMS magari ci metterà un po ad approvarlo e ad insomma a fare il bonifico a fare il bonifico sul conto corrente del beneficiario quindi entrerà in vigore dal primo marzo e l'assegno unico va a sostanzialmente a togliere alcuni strumenti che ci sono in essere perché le andrà a sostituire per questo che si chiama assegno unico che cosa va a sostituire va a sostituire innanzitutto l'assegno per il nucleo familiare che i dipendenti si vedevano in busta paga e va a sostituire anche le detrazioni per i figli sotto i 21 anni che sempre il dipendente si vedeva in busta paga ovviamente se aveva chiesto aveva compilato il modulo delle detrazioni consegnato al datore di lavoro quindi a chi si applica l'assegno unico l'assegno unico si applica sostanzialmente ai nuclei familiari che abbiano figli di età inferiore ai 21 anni cosa succede se ho un figlio a carico con età superiore a 21 anni lo vediamo dopo comunque quello che vi interessa sapere è che l'assegno unico si applica appunto a possono richiederlo i genitori di figli appunto di con età inferiore ai 21 anni possono richiederlo i genitori con figli disabili indipendentemente dall'età quindi anche se di età superiore ai 21 anni attenzione che per i figli di età sostanzialmente compresa tra i 18 e 21 anni spetta solo se il figlio è fiscalmente a carico ok quindi deve essere appunto deve frequentare un corso di formazione deve avere svolgere un tirocinio con un reddito sotto gli 8.000 euro deve essere disoccupato oppure deve svolgere servizio civile quindi non deve avere un reddito da lavoro dipendente per capirci l'assegno unico come quantificato è quantificato sostanzialmente in base all'ISEE la dichiarazione deve essere presentata annualmente sostanzialmente tramite patronato oppure tramite il sito del NIMS e attenzione che bisogna presentarlo l'ISEE del 2022 e sostanzialmente i documenti da presentare anche i crediti sono relativi al 2020 una particolarità appunto dell'ISEE però se andate al patronato o comunque avete dei dipendenti che vogliono richiederlo e li mandate al patronato non abbiate paura perché verrà spiegato tutto esattamente quello che bisogna portare perché bisogna presentare un sacco di documenti quindi a quanto ammonta l'assegno? Allora l'assegno va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 175 da cosa dipende questo numero come dicevamo varia in base all'ISEE e all'età del figlio perché l'importo minimo per i figli minori è di 50 euro quello minimo per figli dai 18 ai 21 anni è di 25 euro e può arrivare a un massimo di 175 euro mensili ora sopravviste anche delle maggiorazioni quindi ad esempio il minimo è di 50 che può essere aumentato questo importo in alcuni casi può essere aumentato ad esempio io l'ho segnato l'assegno unico è maggiorato nel caso in cui ad esempio la mamma abbia un'età anagrafica inferiore ai 21 anni oppure maggiorato nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un raddito da lavoro dipendente questa regola è stata messa perché ovviamente se l'assegno per andare a bilanciare un pochino il fatto che ovviamente in un nucleo familiare con tutti e due che lavorano quindi tutti i due genitori che lavorano sostanzialmente l'ISEE sarà un pochino più alto però se l'assegno se non ci fosse questa regola sostanzialmente sarebbe un disincentivo nel caso più comune per la mamma di non lavorare quindi è stato fatto apposta per far sì che il fatto che la mamma lavori non sia un disincentivo in questo caso non sia penalizzante in termini di assegno unico io ho messo anche un link che è comodissimo a mio avviso in cui si può fare una simulazione direttamente dal sito dell'IMS dell'importo dell'assegno unico che vi spetterebbe quindi secondo me è comodissimo ve l'ho messo ovviamente le slide dopo le manderemo a tutti una cosa da sapere che insomma è cambiata rispetto al 2021 è che mentre prima sia in termini di detrazioni che in termini di assegno unico c'era un limite reddituale per poterlo richiedere dal 2022 quindi con l'assegno unico non ci sarà più questo limite reddituale quindi sostanzialmente tutti anche i redditi molto alti avranno diritto comunque alla misura minima in questo caso dell'assegno unico per ciascun figlio quindi tutti potranno chiederlo allora quando si richiede quando viene erogato allora l'erogazione va la validità va dal primo marzo alla fine di febbraio di ciascun anno si richiede quindi nei primi due mesi dell'anno e la validità vale esattamente 12 mesi quindi adesso io richiederò quello del 2000 l'assegno unico del 2022 e decorrerà dal primo marzo fino a fine febbraio del 2023 e poi ovviamente i primi due mesi tra gennaio e febbraio 2023 potrò richiedere l'assegno unico che insomma mi verrà erogato dal primo marzo 2023 scusatemi quest'anno e solo quest'anno la domanda potrà essere fatta fino al 30 giugno e vi verranno dati anche gli arretrati quindi a partire da marzo attenzione che a partire dal primo di luglio sostanzialmente decorrerà dal mese successivo quindi cosa cambia rispetto a prima rispetto a prima cambia che gli assegni per il nucleo familiare come forse sapete potevano essere per gli assegni per il nucleo familiare appunto che erano in vigore prima si potevano richiedere anche gli arretrati fino a 5 anni indietro questa cosa sembra che non si potrà più fare a chi viene fatto il pagamento normalmente il pagamento viene fatto 50% a genitore quindi ogni genitore potrà chiedere la propria parte di assegno esattamente come era prima il meccanismo delle detrazioni cioè prima ogni genitore poteva chiedere il 50% di detrazione sui figli quindi potrà essere richiesta la metà da ogni genitore però ci si può anche mettere d'accordo affinché l'erogazione venga fatta su un solo genitore ad esempio un'altra novità è che il figlio maggiorenne potrà richiedere direttamente la quota aspettante e farsela bonificare sul proprio conto corrente una cosa importante è che il conto corrente su cui viene fatto il bonifico dal parte dell'INPS quindi che viene indicato nel momento in cui viene fatta la domanda deve essere insomma deve essere intestato al beneficiario quindi al genitore che riceve l'assegno intestato o cointestato quindi cosa viene abrogato? vengono abrogati quindi l'assegno per il nucleo familiare per le famiglie con figli minori di 21 anni vengono abrogate le detrazioni per figli minori di 21 anni vengono abrogate tutte le detrazioni che erano relative le maggiorazioni che erano relative ai figli ad esempio minori di 3 anni o a figli disabili e viene anche abrogata l'ulteriore detrazione per le famiglie numerose mentre cosa non viene abrogato? non viene abrogato l'assegno per il nucleo familiare quelli sostanzialmente senza figli ma con ad esempio componenti disabili quindi quello non viene toccato rimarranno in vigore i vecchi assegni e altre sì rimarranno in vigore le detrazioni per i figli ad esempio sopra i 21 anni quindi se un dipendente ha un figlio di 24 anni che va all'università potrà avere ancora le detrazioni sostanzialmente come prima non viene neanche abrogato il bonus nido che viene sostanzialmente mantenuto come era fino al 2021 cosa succede quindi nella busta paga di marzo? sostanzialmente quindi quasi tutti gli assegni per il nucleo familiare la maggior parte scompariranno se non appunto come dicevamo quelli per famiglie senza figli minori ma con componenti disabili tutte le detrazioni per i figli sotto i 21 anni spariranno e rimarranno invece le detrazioni per gli altri familiari quindi ad esempio con ogea a carico potrebbe sostanzialmente rimarrebbe a carico e anche la detrazione per famiglie numerose verrebbe quindi soppressa allora io ho detto tutto spero di essere stata sufficientemente chiara e se qualcuno ha qualche domanda insomma potete scriverla nella chat grazie 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 grazie